Grazie a tutti I miei uccisi 2809 2868 morti Quindi sono quasi a uno di Rapporto uccisi e morti Ho fatto un bel poli partito Dove non si poteva giocare E queste partite le ho sprecate Nella modalità di merda Che è quella classica E sono iniziato a giocare bene Solo quando sono andato in veterano Quindi sono andato in veterano Sicuramente Le statistiche sarebbero positive Allora vediamo Veterano Carriera Ci dice TCT Come mai? Ah no Devo vedere veterano Come faccio a vedere? Vabbè non posso vederlo Comunque Vedatevi Mega uccisione Se i nemici abbiamo distanze Del tempo uno dall'altro Uccisione quadro Pass specialisti Senti serie di punti Serie di punti Valtare il gioco Va bene Ad ammissi tutto Quindi ora possiamo arrivare Possiamo andare A fare il nostro primo prestigio Accedere prestigio 1 Ricomincia il volume Dopo prestigio Atterrai tutti i progressi Relativi alle armi E le sfide E le persone inizioni In cambio Ci verrà inviata a vista E un punto Per sbloccare In modo definitivo L'oggetto che normalmente Sblocca salendo il livello Attivazione Prestigio Ragazzi Prestigio 1 Cosa possiamo sbloccare Niente Dice Non vedo nulla Che mi può servire Sblocca salendo Sblocca salendo